Una sequenza di straordinari connubi fra la concreta realtà industriale e la stratta creatività artistica, fra forma e colore delle opere, fra l'ispirazione ligustica e della camarga nell'autore. È la mostra di Rino Valido Arte e Industria, astrazione dall'identità di fabbrica alla Fondazione Ansaldo di Villa Cattaneo dell'Olmo, curata da Luciano Caprile. Dipinti, sculture, allestimenti, bozzetti, scandiscono un lungo sodalizio con le aziende film meccanica e le loro trasformazioni nella visione interiore dell'artista. La raccontano anche i tre grandi quadri inediti, dedicati ad Ansaldo Energia, Trasporto e Automazione. Viciniamoci a uno di questi quadri e lo descriviamo da vicino. Allora, questo si chiama, il titolo ovviamente detto da me, si intitola Finestra Siderurgica, perché è intitolato a questa società che si occupa di automazione siderurgica. Quindi interpreto automazione e astrazione quasi sullo stesso piano. Di conseguenza, che cosa vedo? Io vedo sostanzialmente una sorta di colata rossa, questa colata rossa che in qualche modo attraversa questo passaggio, diciamo, di risultato, di esecuzione materiale e in qualche modo viene rappresentata attraverso, così, emblematicamente dei computer, dei bottoni che in qualche modo l'uomo usa in modo molto più snello e molto più facile. La finestra è l'elemento forse più indicativo e più facile, diciamo, da riconoscersi. E questa zona, diciamo, questa campitura azzurra è come se io guardassi al di fuori e vedo questo risultato tecnologico. Nato a Varazze, Rinovalido, che qui espone anche altri lavori, frutto della sua libera ispirazione artistica, dopo la scuola grafica e i corsi all'Accademia, ha iniziato come grafico, fotografo e cromista. Il cromista è quello che scompone un'intensità di grigio per un'intensità di colore. Una volta si usavano queste terminologie, avevamo quattro matrici, diciamo, fotografiche neutre, che erano dei retini grigi e si scomponeva questo grigio in funzione di un'intensità di colore. Ed era molto interessante, ora tutto questo purtroppo è scomparso, però per fare questo mestiere, tanti anni fa occorreva avere un'infarinatura di disegno e sapere che cos'è il colore, soprattutto. Una maestria con il colore è evidentissima anche nelle geometrie e nelle tonalità delle sue campiture. Valido per qualche anno dipinge ed espone, poi nel 1978 il primo incarico per Finsideri. Allestire il suo stand alla Fiera delle Vatte lo fa innamorare del design. Il mondo dell'industria del design era vincente perché mi proiettava in un mondo molto più ampio, molto più interessante e, diciamo, da scoprire. La pittura aveva dei momenti anche di stallo per certi aspetti perché ci sono le mode, ci sono le appartenenze e allora mi innamorai di questo e andai avanti su questo. Ovviamente dovete in qualche modo scindere un pochino là. Quindi le mostre vennero meno, le mostre personali vennero meno e mi ritrovai a collaborare con queste grandi aziende. È un suo mentore, lo scomparso professor Dino Carlesi, a risvegliare in lui la passione per la pittura. Negli anni 90 gli propone di fare insieme un libro. Per lui non è un periodo facile, però accetta. Provai la forza e il modo per poter realizzare questo libro insieme al professor Carlesi e iniziano di nuovo le mostre a tutto tondo artistiche. Però non ho mai abbandonato poi ovviamente la società, cioè le società con cui ha avuto rapporti in passato. Adesso è una collaborazione insieme. La mostra si snoda in tutta la magnifica villa Cattaneo dell'Olmo e a guidarci è anche il suo curatore. Siamo davanti al Filo dell'Aquilone, un'altra opera di Rino Valido e con Luciano Caprile, uno dei più noti critici d'arte in Italia e non solo, troviamo un po' il filo conduttore del paesaggio interiore di Rino Valido. Sì, forse Rino Valido l'ha già detto, ma questo paesaggio, questa folgorazione, questi colori gli vengono dall'aver scoperto la Camarga a un certo punto. Fino a quel momento lui era un artista abbastanza figurativo, in quel momento i colori della Camarga gli suggeriscono, li fanno entrare nella sua pittura, questi colori, che poi lui trasferisce nei dipinti e portando questo paesaggio che diventa un paesaggio ideale, un paesaggio interiore dove tutti i visitatori, quelli che vedono le sue opere, ritrovano e possono fare proprio. La tecnologia e l'astrazione artistica forse possono essere un buon binomio. La materialità dell'industria come si traduce invece nell'arte astratta? Ma ecco, l'artista è bravo quando riesce a tradurre queste cose, a tradurre ecco il messaggio tecnologico, chiamiamo così, un messaggio artistico e lo vediamo in Rino Valido. Quando una forma tecnica, tecnologica diventa un colore, diventa un elemento come di collage e qui è anche già una sorta di tecnologia che entra nella sua pittura, già normalmente nella sua attività pittorica. A maggior ragione lui riesce a fare questa manovra, ad attivare questa peculiarità quando deve intervenire con l'industria. L'esposizione, aperta sino al 16 ottobre e visitabile nei feriali in superannotazione, è anche un modo per far conoscere di più la Fondazione Ansaldo. Nata nel 1999 con soci di Finmeccanica, provincia, comune e regione e la partecipazione di molte altre istituzioni e realtà, è il fulcro della memoria e del patrimonio storico, culturale e scientifico di Ansaldo e di tutte le maggiori imprese di Genova. Abbiamo migliaia di filmati che abbiamo anche presentato lo scorso anno con un'iniziativa che si chiamava Cinema Industria. Abbiamo restaurato, grazie al contributo del San Paolo di Torino, 5.000 pellicole d'epoca e abbiamo più di 15 chilometri di carte, abbiamo raccolte infinite di testimonianze orali, di titoli azionari antichi e soprattutto abbiamo circa 500.000 fotografie industriali. Su queste avrà luogo il prossimo 28 ottobre a Palazzo Ducale una mostra. Una mostra però adatta ad un pubblico vasto, nel senso molto multimedializzato. Ci saranno ovviamente originali esposte, gigantografie, ma soprattutto ci sarà la possibilità di capire cosa vuol dire veramente quella foto di quel periodo.